Abbiamo da poco fatto una riunione con la nuova squadra alla quale ho chiesto impegno e che la politica rimane fuori dal palazzo. Noi siamo qui a rispondere alle esigenze della comunità trevigiana che è l'unico partito di riferimento all'interno di questo palazzo. Il nostro partito di riferimento sono i cittadini trevigiani, tutti, quelli che ci hanno votato ma soprattutto quelli che non ci hanno votato. Il primo messaggio, tutt'altro che sotto traccia, sembra indirizzato alle segreterie di partito. Prima dei simboli vengono i cittadini, dice Mario Conte, presentando la nuova giunta di Casugana, che comunque tiene inevitabilmente conto degli equilibri interni al centro-destra emersi dalle urne. Con una giunta mista tra riconfermati e new entry, una giunta equilibrata che dà risposta a quelle che sono le sensibilità e le esigenze di tutte le liste che mi hanno sostenuto e quindi ci sono tutti i presupposti per andare avanti. Le due new entry in senso assoluto arrivano dalle file di Fratelli d'Italia. Gloria Serna Giotto è la nuova assessora alle politiche giovanili e alla scuola. Rosanna Vettoretti allo sviluppo economico e al commercio. È la prima volta in giunta comunale per l'ex capogruppo della Lega Riccardo Barbisan, su e le delega il bilancio e al patrimonio. Della precedente giunta rientrano in quattro. Alessandro Manera, mister preferenza Treviso, mantiene l'ambiente e il PNRR. È lui il nuovo vice sindaco, mentre Andrea De Checchi va all'urbanistica e ai servizi. Opere pubbliche per Sandro Zampese riconferma piena al sociale per Gloria Tessarolo. Manca un assessorato che diventerà operativo solo a partire dall'inizio del 2024. Primi indizi sarà una donna e il suo profilo rigorosamente tecnico. Sarà un assessorato specifico su dei temi che io andrò a valutare da qui a dicembre che necessitano di un maggiore supporto da parte dell'amministrazione. Sindaco che al momento tiene per sé polizia locale, sicurezza, protezione civile, cultura, turismo, grandi eventi, ambito non banale con una Olimpia dalle porte e comunicazione istituzionale. Tutte le informazioni istituzionali o escono da me o escono dagli assessori previo accordo col dottor Francesco Vigatto. Altra delega di peso trattenuta da Conte, quella all'università. Previso città universitaria è una di quelle deleghe che ho fortemente voluto ma soprattutto uno di quegli obiettivi sui quali io credo molto. Deleghe specifiche saranno attribuite anche ad alcuni consiglieri comunali. Un nome c'è già e si occuperà di rapporti con le istituzioni. È una forma di ringraziamento, di stima e di affetto nei confronti del generale Janicelli che fin dal primo giorno mi ha sostenuto in questa avventura. E questo in attesa di capire chi sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale convocato per il 6 giugno, quanto alle priorità sono quelle di sempre, soprattutto in ambito sociale. I spin doctor da un punto di vista politico sono i bambini. Noi vogliamo con grande determinazione costruire una città a misura di bambino. Noi vogliamo con grande determinazione costruire una città. Grazie. Grazie.